E' arrivata la sprinta della talunga, poi vedremo che avrà insieme nel proprio nome del mare con loro, con la testa testa e se la giunta, con lo saluto, con lo saluto, con lo saluto, con lo saluto, con lo saluto. E' assieme a lui l'Azzurra e ai testi mondiali unioni di Copenaghen, Daria Fuggioli. Il stagionale lui avrebbe vinto anche a Camaiore, che viene pregnato dal dottor Roberto Buda, sindaco di Cesenatico, con il trofeo Alla Soncler Cesena. Assieme a lui Daria Fuggioli, azzurra e unione ai mondiali. E ancora Paolo Pantani consegna...